Allora, trasporti. Su, scelga la ibrida che vuole. Scelgo questa. No, non sia ridicolo, English. Questa è un rudere. Beve benzina, perde olio e non ha nessun sistema di sicurezza, né attivo né passivo. Sa che altro non ha, signore? Navigatore satellitare o qualunque altro microchip. Perciò è completamente invisibile, è un nemico digitale. L'equipaggiamento che l'agente English ha richiesto, signore. Grazie. Telefono, boff? Sì. Quel cattivone tecnologico non ci vedrà arrivare. No, 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 no. Grazie a tutti.